ciao a tutti e benvenuti sul mio canale allora oggi nuovo video un video per la rubrica di trucchi strani e andrò a fare nelle labbra farò un lip andrò a fare praticamente crudelia demon ma non crudelia demon proprio lei lo stampo di lei nel senso andrò a fare a userò i colori acrilici perché con gli ombretti non penso che riesco fatte le labbra del solito uso gli acrilici invece per quanto riguarda tutto il viso gli ombretti poi dopo comunque dipende anche per le labbra posso usare gli ombretti ma su questo tono qui credo proprio che mi serviranno gli acrilici e ma serve solo come colore il bianco e nero stop e non andrò a fare come dicevo proprio a lei se vedete che guardo così da qua perché c'è il pc che c'è le immagini di quello che devo fare quindi intanto anche nel video vedrete che guardo lì nel pc scusate stato se me sta portando via e andrò a fare lo stampo di lei l'immagine nel senso vado a fare qua sotto andrò a fare le labbra qui tutte bianche sopra metà bianco e metà nero con dei peletti che pare tipo il cappotto diciamo ecco di crudelle de mon qua diciamo i capelli eccetera eccetera e qua tipo il cappotto che faccio la stampa insomma disegnino qua tutto bianco e qua con le macchiette del dammata e qua tipo i capelli che vanno tipo a peletto fatti così metà bianco e metà nero niente spero che questo libro vi piacerà e comunque vi lascio tutorial ci vediamo ciao 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 eccomi qua ragazzi e ragazze questo qui è il lib dalmata quindi di crudelle de mon come vedete qua pare tipo i capelli vedete metà bianchi metà nero qua tipo il cappotto oppure il pellicciotto che quando c'è il cappotto tutte queste macchiette qui detto dalmata di formare dalmata e esso sopra c'è tutto il pelo no quindi fa metà bianco e metà nero però può essere anche i capelli comunque molto bene sono soddisfatta di come mi è venuto belle labbra dalmata dal mattiane le labbra dal mattiane niente spero che questo lì per vi sia piaciuto se è stato così mettete un pollice insomma mi raccomando e fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate prima l'avete vista il rientatore bellissimo poi su juventina quindi c'è satice bianco e nero e niente vi saluto e vi mando un bacione enorme ci vediamo presto al prossimo video ciao